Passaggi di Natale alla sua seconda edizione, l'anno scorso abbiamo aperto con Aldo Cazzullo, giornalista del Corriere della Sera e quest'anno invece portiamo al Teatro della Fortuna, mercoledì 12 dicembre alle ore 18, un grande imprenditore italiano conosciuto in tutto il mondo, Brunello Cucinelli. Cucinelli ha scritto una autobiografia per i tipi della Feltrinelli, si intitola Il sogno di Solomeo, dove racconta la sua storia, figlio di contadini, come è arrivato ad essere il re del Kashmir, quindi un oggetto, un prodotto di grande lusso che però questo imprenditore così particolare, così curioso, così colto, così disposto a guardare il mondo con occhi diversi, con occhi particolari, ha reso un prodotto, certo non un prodotto popolare, però ha reso un prodotto talmente particolare, talmente carico diremmo di umanità e di etica che ne fa davvero un personaggio straordinario. Noi lo portiamo a passaggi di Natale al Teatro della Fortuna appunto, il 12 dicembre dicevo, con Lorenzo Salvia, giornalista del Corriere della Sera che lo intervisterà, ma sarà anche possibile intervenire tramite la nostra pagina Facebook ponendo delle domande che poi una mini redazione che sarà sul palco rivolgerà a Cucinelli, quindi ci sarà anche una sorta di interazione con il pubblico. L'ingresso è alle ore 18, è gratuito ma occorre prenotarsi, purtroppo sono rimasti pochissimi posti, è possibile dare un'occhiata al sito www.passaggifestival.it per capire se c'è ancora qualcosa di libero e disponibile. È il nostro modo come Passaggi Cultura, ente promotrice di Passaggi Festival, per fare gli auguri alla città e a chi ci vuole bene, ci sostiene e ci segue dal 2013 a oggi.